E' stato meglio così. Un profeta non può permettersi certe... fughe. Ah, ma il profeta niente... fughe, eh? Ma chissà come ogni volta che mi dovevo sposare spuntavi tu e mi mandavi all'area del matrimonio. Ma come? Me lo spieghi. Ma cosa ne vuoi sapere tu? Ah, no, 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 io non voglio sapere niente. Niente. Mi spiace, non voglio sapere più niente. Ma dico, io pensavo che ci fossero altri livelli, che ci fosse altro. Ma mai così. Devo dire che lavorare per lui è stato entusiasmante. A un certo punto mi sono sentito l'attimo in cui esplode una stella. Sono rimasto quell'attimo per giorni. Andavo al bar e mi espandevo. Nel caffè, nel bignè al cioccolato, nella signora che porta i cani a passeggio, nel barista, sul pavimento, per la via. Fu stupendo. Quando ero arrivato alla piccola stradina sterrata del paesino dove abitavo. La segui ed arrivai fino alle provinciali. Poi più in là, le nazionali, la via Emilia. La riempii tutta. Da Rimini a Milano. Fui in un tempo solo a Berlino, Budapest, Londra, Lecce. Ero tutte le strade del mondo. L'attimo dopo ero tutte le sterrate d'Africa e dell'America Latina. Ero tutte le strade del mondo. Fu stupendo. Tutte le droghe non sono niente rispetto al viaggio mistico. Andiamo? Ma veramente non ho ancora chiesto il permesso. Non è mai successo che... Prima andiamo e poi chiediamo. Vai, vai, vai pure Gabriele, non ti preoccupare. E mi raccomando, è il mio anzio. Un rifiuto! Ma, ma Giovanni, ma io non avrei ricevuto un rifiuto nei secoli dei secoli. Amen. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu adesso molto gentilmente vai da lui e gli dici che Giovanni è soddisfatto per la richiesta che gli ha fatto, però deve rifiutare. E semmai si rende disponibile per futuri incarichi tipo Angelo oppure Arcangelo. Così? Devo dirgli così. Tu infalcicila un po' come vuoi. Sei o non sei un messaggero, no? Fai il tuo lavoro. Ti ho fatto tardi. Fammi strada, Gabriele. Beh, io parlo, eh. Pronta, Tia Maria? Allora. Ah, scusate. Dimenticavo. Cos'è? Un seme delle indie di arancia. Piatto nel paradiso. Divertitevi. Pronti? Pronti? Alle cinque ho allenamento in piscina. Mi piace rimuotare nell'acqua azzurra. Mi preparo coi cuffi, sì? Quest'anno mi presento coi cuffi. L'Olimpione Calabona. Un giorno mi prende la parte e mi dice o vuoi sapere un segreto? Tu sei la punta della cometa. Tu puoi cambiare le cose. E' stato quel giorno che mi è venuto in mente quel tuffo. Tutto vortici e spirali. L'allenatore non voleva crederci. Non è nel regolamento. o mi squalificano oppure lo cambio. Ho tre anni per allenarmi. Piatto nel periodo. Grazie a tutti.